E' un settore vivo e nel quale il Made in Italy primeggia nel mondo. La nautica da di porto si mostra al Marina di Pescara, animato fino a domani da Sottocosta. Pescara dunque, assieme all'infrastruttura del porto turistico, si propongono come punto di riferimento del settore di portistico e della pesca nazionale. La nautica, infatti, potrebbe essere un volano importante per lo sviluppo turistico del capoluogo adriatico. Intanto non ci dimentichiamo che il Made in Italy nel settore della nautica, nella produzione dei mega yacht, siamo i primi nel mondo in assoluto, superando tutti i paesi del mondo. E anche nella produzione della componentista e degli accessori e delle piccole imbarcazioni, che qui a Sottocosta ce ne sono tante, rappresentano una produzione importante. Ma soprattutto nasce un moltiplicatore di reddito, perché nel momento in cui ti fai un piccolo gommone, una piccola barca a vela, tu vivi questa passione, però poi lo attrezzi, lo organizzi. Non ci sarà sviluppo per il Marina di Pescara senza un'infrastruttura perfettamente funzionante. Il 10 maggio, dopo tante polemiche, partiranno i lavori di dragaggio del porto turistico, una buona notizia per l'avvio della stagione estiva. Una struttura come questa del Marina di Pescara, che tra l'altro paradossalmente è già pronta per dragare, ma le lungaggini di analisi e burocrazie lo bloccano, deve invece essere sbloccata, ma deve essere soprattutto sopportata dagli enti e anche finanziata dagli enti. Perché io ho sempre fatto questo esempio, se ci fosse una frana davanti a un grande villaggio turistico, nessuno penserebbe mai che il proprietario del campeggio debba andare a spostare la frana e a togliere la terra. Ma invece nel caso del dragaggio del Marina di Pescara non si capisce perché lo debba fare un'azienda che comunque, ripeto, è pronta e già può partire e grazie a Dio partirà adesso a giorni, come ha annunciato il Presidente Colazzilli proprio ieri.